Scorrono davanti a 150 ragazzi delle scuole le immagini di un documentario che ricorda le vittime del terrorismo dal 69 all'83. Sono in comune a rispondere alle loro domande c'è il sindaco Pisapia che condanna ogni tipo di violenza, anche solo verbale, che definisce inaccettabile la mancata estradizione dal Brasile dell'ex terrorista Cesare Battisti. È inaccettabile che di fronte a una situazione del genere un paese estero non conceda l'estradizione per un reatto così grave. Seduti accanto al sindaco ci sono Pietro Chiese e Federica Dendena, figlio e nipote di Francesca Dendena, storica rappresentante dell'associazione vittime della strage di Piazza Fontana. Un filo ideale lega più che mai Milano a Roma dove il presidente napolitano ha dedicato il giorno della memoria del ricordo innanzitutto dell'uccisione di Aldo Moro proprio alla Dendena. E ancora da Milano il presidente della Repubblica ha invitato i familiari di Roberto Franceschi, lo studente della Bocconi, ucciso nel 73 da un proiettile della polizia durante una manifestazione degli studenti. Sono giorni di grande lacerazione sociale e di disillusione dalla politica, ma perché la violenza non torni è fondamentale la partecipazione al voto, richiama il sindaco, proprio a ridosso di amministrative in cui l'astensione è stata tra i vincitori. Anche la partecipazione all'elezione, alla politica, ognuno con le sue modalità, con il volontariato, con l'associazionismo all'interno dei partiti, è fondamentale perché altrimenti si rischia poi di dare spazio a chi vuole usare strumenti non democratici.